Allora, stiamo parlando di situazione degli immobili, abbiamo parlato anche del decreto salvacasa. Presidente, quindi un aspetto positivo questo decreto potrebbe aiutare moltissimi, giusto? Sì, siamo sicuri che darà un rilancio per quanto possibile alla compraventa degli immobili, proprio perché può mettere sul mercato immobili che viceversa avrebbero delle difficoltà. Allora, ci sono tanti immobili che hanno difficoltà, ne parlavamo prima fuori onda, anzi con buona fede del proprietario, legittimamente con buona fede, perché tante sono case ereditate ormai, abbiamo tutta la generazione di coloro che hanno ereditato gli immobili, tante sono case dove si sono apportate delle modifiche interne tranquillamente senza porsi troppi problemi, perché tanti fanno il ragionamento, dentro casa mia potrò mettere un muretto, potrò buttare giù una parete all'ampliare una stanza stando dentro le pareti di casa, ma non è così. Non è così, siamo nella società del controllo, cogliamo l'opportunità di regolarizzare, ecco volevo sottolineare questo però, è una regolarizzazione, come avevamo detto prima non è un condono e si può regolarizzare il regolarizzabile, mi spiego meglio parlo da avvocato, entro in un settore che è mio. Quando si acquista un immobile o si fanno determinati lavori, di solito si trova sempre la clausola fatti salvi di diritti di terzi, quindi teniamo presente che ci sono delle situazioni dove non sono state rispettate le distanze dal confine, o si è andato a violare un diritto di un vicino, ecco queste non sono situazioni regolarizzabili. Quello che riguarda il proprio insomma e che non va… Ci sono delle situazioni, delle sumature, delle sbavature che rendevano difficile la vita al proprietario, si possono regolarizzare, non eccediamo però perché i diritti di un soggetto si fermano quando cominciano i diritti di un altro, quindi i diritti di terzi vanno comunque salva guardati. Però appunto devono essere non rilevanti, come diceva l'architetto, perché ovviamente l'apertura, la chiusura di più finestre potrebbe andare oltre quello che è permesso della percentuale costantilità. Bisogna vedere caso per caso, giustamente l'architetto Cauchi dice non possiamo generalizzare, andiamo a vedere caso per caso, perché esempio una veduta, c'è una questione di distanze anche dal confine, per cui va al di là di questo decreto, va vista, va valutata la questione civilistica, per cui torno a quello che ho detto proprio un attimo fa, si può regolarizzare irregolarizzabile e quindi insistiamo, va presa situazione per situazione, sconsigliamo assolutamente i fai da te, perché si rischia solo di fare confusione, bisogna mettersi in mano a professionisti preparati e valutare la situazione. Restano fermi comunque i capisaldi, io parlo d'avvocato, civilistici. Posso aprire una finestra, la posso regolarizzare, ma non ha un effetto sanante rispetto al vicino se glielo ho fatto proprio ai confine, quindi sono situazioni che vanno controllate di volta in volta. Assolutamente, una persona una volta che ha fatto una verifica autorizzando un professionista l'accesso agli atti può decidere di non sanare, una volta calcolato che magari non ha voglia, non ha soldi per tirarlo, per sanarlo, giusto? Certo, perché? Anche perché ci sono le minime difformità che dovrebbero essere oggetto di comunicazione, quindi poi da un certo punto in poi diventa abuso e allora là realmente non si consiglia di procedere perché si mette in moto un meccanismo di autodenuncia che non è il caso di mettere in moto. Ecco, io sottolineerei, permettimi, proprio questa cosa dell'autodenuncia. Sì. L'architetto è più ferrato. Diciamo che ci sono, proprio perché non è un condono e ci sono delle difformità che non sono sanabili con questo decreto perché rientrano nell'ambito di ciò che deve essere oggetto di sanatoria vera e propria. Ma cosa vuol dire autodenuncia? Se io ho un immobile in cui ho chiuso una veranda, per esempio, no? Si è diventato, sì. Ho fatto diventare un balconcino un volume perché se chiudo un balconcino io ho realizzato una stanza, se non le sto a raccontare tutti i parametri, comunque, se quel volume che io ho fatto in più non mi è consentito perché il mio immobile ha saturato tutta la volumetria che aveva a disposizione, io quella veranda che ha fatto diventare un balcone stanza non la posso sanare. È un abuso insanabile. Ok. Oppure magari c'è una situazione intermedia per cui ne posso sanare un pezzo e posso spostare la veranda e ampliare la stanza su cui affaccia la veranda, insomma, però, come dicevo prima, ogni caso va studiato. Se io metto in atto una procedura di richiesta di, attraverso per esempio il decreto, il decreto salva casa, nel momento in cui io ho protocollato dei documenti il percorso non lo fermo più di sanatoria, quella in autodenuncia. Certo, questa non è una sanatoria, dagli atti emerge che invece è un abuso, quindi la persona si è autodichiarata. Esatto, ed è per questo che le cose vanno fatte con attenzione e con criterio. E il professionista che dice attenzione che muovendo queste pedine vai a toccare determinate cose. Esatto, magari io, proprietario di un immobile, mi rendo conto che ho delle piccole diversità, difformità e voglio sanarle, chiedo a un tecnico di quantificare la differenza e magari nell'analizzare la situazione il tecnico si rende conto che ce ne sono delle altre che non erano evidenti che invece comporterebbero una sanatoria vera e propria. E quindi in quel caso bisogna valutare tutti gli aspetti, perché nel momento in cui si mettono in moto meccanismi di sanatoria non si possono più fermare, la pratica non si può ritirare. Perfetto, allora ancora di più occorre avere un professionista che dice qua ti conviene muoverti entro quest'ambito di azione o non muoverti proprio? Esatto, poi permettimi di sottolineare altri due particolari. Innanzitutto il limite temporale. Oggi si possono regolarizzare gli abusi fino al 24 maggio, corretto? Esatto. Non mi sbaglio, di quest'anno. Di quest'anno. La seconda questione sulla quale vorrei porre l'attenzione è che si tratta di un decreto e quindi deve essere convertito in legge e ci saranno sicuramente degli emendamenti. 500 sono. Già si annunciano delle richieste di modifica, quindi conviene aspettare. Per cui in questo momento sì, se uno ha una certa fretta faccia pure, se no io direi di ponderare, aspettare che ci sia la conversione e a quel punto si avrà una situazione più chiara e completa. Definita. La direzione a nostro avviso è quella giusta, ovviamente ci sono delle imperfezioni, stiamo a vedere, insomma se sicuramente ci saranno, come dicevi tu un attimo fa, 500 emendamenti, forse se ne aggiungeranno degli altri, forse in alcuni ne verranno tolti, ma le cose verranno forse perfezionate. Allertati perché c'è questa opportunità, allertati perché, e quindi può essere un'occasione da cogliere per potersi liberare da piccole difformità, eccetera. Attenzione perché potrebbero emergere grandi difformità non sanabili, a questo punto a non fare il passo più lungo della gamba se non si vuole avere altri problemi, oppure se uno vuole dichiarare un abuso perché vuole togliersi dal problema, lo deve fare con le dovute attenzioni naturalmente e modalità, poi tra l'altro, perché penso che anche qua ci sono delle modalità ben precise e quindi tutto step by step. Adesso siamo alle fasi iniziali, poi vedremo come andrà a concludersi. Esatto, anche perché noi come confidenizia diciamo che questo termine il 24 maggio anche no, insomma perché... Quindi voi avete posto delle eccezioni? Abbiamo posto delle eccezioni. Tipo? Adesso non andare più sullo specifico perché io faccio l'avvocato, tu lo sai io. Giusto è vero, è vero, è vero. Allora, relativamente al discorso, quindi abbiamo aperto questa parentesi, l'abbiamo approfondita con l'architetto, è stata molto importante. Io volevo anche trattare insieme il discorso delle locazioni brevi. Ne abbiamo già accennato, adesso poi col periodo estivo tornano in auge perché... Sì, le locazioni brevi vanno molto e vanno soprattutto nelle città turistiche, Padova ne è un esempio, ma non solo. E sono anche questo, io parlo di opportunità. Il proprietario... Allora, apro una parentesi che a me piace molto. Noi come Confedilizia puntiamo molto anche sull'aspetto culturale. Teniamo anche un sacco di incontri dove vengono giù autori che parlano dei valori della proprietà e dei valori della libertà. E sabato l'altro abbiamo tutto un incontro dove c'era un autore che presentava un libro interessantissimo sul politicamente corretto, sulla cultura woke. E a presentare questo autore c'ero io e c'era un carissimo amico, Adolfo Morganti, che è san marinese. E da buon san marinese, come molti sapranno, San Marino è la più vecchia repubblica al mondo. E lui citava il motto di San Marino, che non lo riporto in latino non avendo fatto io studi classici, che diceva è un uomo libero chi non deve niente a nessuno. Ecco, il proprietario è uno che non chiede niente a nessuno, non chiede il reddito di cittadinanza, chiede solo che gli venga lasciato il suo immobile, che gli dà un senso di indipendenza. Per cui il proprietario se coglie l'occasione di affittare con affitto breve, non dovendo passare sotto le forche caudine e poi di uno sfrato, perché sappiamo tutti benissimo che quando andiamo in locazione un immobile poi non è detto che ce lo restituiscano, non è detto che ci paghino l'affitto e non si sa mai in che condizione ci viene restituito. Quindi molti hanno approfittato della possibilità di dare in locazione breve il proprio appartamento. Non è detto che gli dia un reddito maggiore, perché bisogna starci anche un po' dietro, perché c'è la biancheria, una cotta nero pulita, una cosa e l'altra, ma gli dà un senso... Oppure si viene gestito da un'agenzia, c'è una percentuale. Sì, ovviamente una percentuale va all'agenzia, ma quello che conta per il proprietario è avere in qualche modo la certezza di riavere il suo appartamento indietro, perché arriva un turista, sta detto una settimana, può far danni per una settimana, ma in una settimana non glielo distrugge e quindi poi ha il suo appartamento. Questo però ha creato una certa tensione abitativa. Io me ne accorgo sulla città di Padova, dove il comune ci fa intervenire in continuazione, non solo noi come confine di inizio, ma tutte le associazioni della proprietà e dei conduttori, perché c'è un'agenzia abitativa, anche perché abbiamo un'università che porta molti studenti. Quindi cosa succede? Che il legislatore, secondo noi anche su pressione della Federal Bergy, vuole in tutti i modi ridurre l'impatto delle locazioni brevi. I dati invece che ci vengono da confedilizia, proprio della settimana scorsa, ci dicono che il turismo in questo momento in Italia sta andando molto bene ed è trainato proprio dalle locazioni brevi. Allora ci chiediamo, ma perché questa assurdità di voler, diciamo in qualche modo, ridurre le possibilità dei proprietari di mettere a reddito come è giusto che sia il loro bene, senza essere indicati come gli autori, gli untori, come nella storia della colonna infame del Manzoni, e andando addirittura a ledere l'economia, perché l'economia ne trae un grosso giovamento. E spesso ci fanno l'esempio di città come Barcellona, anche New York, che vogliono vietare le locazioni brevi. Intanto noi non siamo Barcellona. E comunque dove c'è stato questo blocco, questo rendere difficile la locazione breve, i prezzi negli alberghi sono lievitati in maniera esponenziale. E sono felici gli albergatori. Sono ovviamente felici gli albergatori, ma allora ci chiediamo, vogliamo fare un turismo solo per un'elite o vogliamo che l'economia comunque circoli e che una persona abbia la possibilità di andare in ferie? Perché sappiamo benissimo che una famiglia oggi di quattro persone, due devono lavorare, il marito e moglie devono lavorare, se hanno due figli, uno solo come una volta non ce la fa più, se vanno in un albergo non possono permetterselo, ma non solo. Ci sono, a parte città come Padova, Venezia, Roma, dove in effetti ci può essere una certa tensione abitativa, ma ci sono tutte le zone dei nostri appennini, le zone di montagna, dove c'è un abbandono da parte degli abitanti. Ecco, la possibilità di darle in locazioni brevi vuol dire rivitalizzare tutti questi borghi. Quindi riteniamo assolutamente assurda questa voglia di, diciamo, tagliare le ali ai proprietari. Ti faccio un esempio, è stata introdotta la cedolare secca al 26% per le locazioni brevi, laddove nei contratti normali o al 10% o al 21%. Oltre i 4 appartamenti dati in locazione uno diventa imprenditore, con tutti i problemi che ci sono nel fatto di essere imprenditore. Quindi noi ci battiamo come associazione perché un proprietario abbia il diritto di poter gestire i propri immobili come vuole, perché, ripeto, non chiede nulla a nessuno, è proprio un senso di libertà. E qual è il problema? Che l'Italia è un unicum rispetto agli altri paesi, perché non si trova in nessun altro paese al mondo una proprietà diffusa, perché dal 75% all'80% degli italiani sono proprietari. Ma essendo così frammentate è difficile da controllare e quindi è difficile da governare. Essendo in una società del controllo, questa può anche dare fastidio. Ed è proprio per questo che noi ci battiamo, ci confrontiamo per la questione culturale, perché vogliamo capire la direzione, che la gente capisca in che direzione stiamo andando. E quindi invitiamo anche le persone a associarsi se è possibile, perché noi viviamo grazie alle nostre tesere, e a partecipare ai nostri incontri e ai convegni con i quali noi esponiamo quelli che sono i problemi e le possibilità della gestione di un patrimonio immobiliare, che è la cassaforte di famiglia degli italiani. Cioè vogliono toglierci questa ricchezza che è molto importante, come dicevo prima è un unicum al mondo, questa ricchezza immobiliare, per portarci nel settore finanziario. Lo faceva notare in maniera molto dettagliata il nostro vecchio presidente nazionale, che è mancato l'anno scorso, in un libricino, dove tra l'altro lui era vicepresidente dell'ABI, quindi aveva anche capito il meccanismo. E spiegava come si vogliono trasformare gli italiani da proprietari di immobili, quindi persone libere, in proprietari di una frazione di un fondo comune. Cioè capisci la differenza, diventano locatori che pagano l'affitto, però proprietari di un fondo comune, e sappiamo benissimo il mondo della finanza come funziona, e questo senso di solidità che ci viene dato dall'immobile ci vuole essere tolto dalla nostra disponibilità. Come vede l'architetto questa situazione? Potrebbe essere togliere locazioni brevi dalla disponibilità del privato, dare maggiore disponibilità di beni immobili in affitto, o tutto sommato con l'esperienza che poi si è maturata con la barricata del Covid, dove tutti sono entrati nuovamente in possesso dei propri immobili, sono resi conto che era ridotto in condizioni terrificanti, ci hanno messo mano, hanno speso tanto e dicono adesso devo anche rientrare in qualche modo delle spese, per cui non lo do più tanto facilmente in locazione, c'è anche questa componente. A prescindere dalle colorazioni politiche è comunque il piccolo proprietario che investe magari tutto quello che ha per comprare un immobile e poterlo mettere, dare in affitto con la certezza di riaverlo quando vuole e di averlo in condizioni accettabili è un diritto alla libertà, come diceva l'Avvocato, di scegliere che cosa fare dei propri soldi e della propria vita. Non ci può essere, questa è una scelta che non può essere delegata a nessun altro. Chiaramente si è visto negli ultimi ormai 30 anni che dare un immobile in affitto in maniera normale, tra virgolette, può comportare tanti problemi. Il primo è quello che un affittuario non paga e rimane dentro casa tua, detta in maniera molto elementare e banale. C'è da dire che comunque si è evoluta la necessità dell'utilizzo degli immobili. Padua è una città che ha una carenza grandissima di appartamenti o di alloggi per studenti, è una città universitaria prima che ogni altra cosa e diventa un problema che poi viene risolto in maniera puntuale e occasionale. La politica della casa deve comprendere tutti gli aspetti. Chiaramente il singolo proprietario è più incline ad affittare a uno studente che con certezza, dopo un certo tempo se ne va, magari fa qualche danno in più, però è un cliente che la lascia. E prima o poi che la lascia, certo. Allora, siamo giunti al termine. Io vi ringrazio. Grazie Avvocata Vantovani di essere stato con noi, Presidente Confedilizia Padova. Grazie all'architetto di averci supportato anche nel scoprire i meandri di questo decreto salvacasa di cui naturalmente avremo modo di parlarne anche magari dopo l'estate. Grazie a voi di averci seguito durante questa trasmissione. e naturalmente ci vediamo presto. Buon proseguimento, buona serata. Buonasera. Grazie.